Paolo, non sembri molto fiducioso. No, ragazzi, sono terrorizzato da questi draft di merda. Ma sì, ma c'è tanto... Tanto dopo c'è una... E Sprint Push ci rompono il culo, questi qua, sicuro. Sì, sì. Infatti noi faietiamo... Cos'è quel cast? Ma vai giù. Il barlume di speranza che faiet... Oh, giro un occhiano di carry? Sto raffreddando il capitale. Andiamo dietro, ulto, ulto, ulto. Rise, 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 rise. Eh... È buono. Quick, kick rise, rise. Easy, easy. Non è, non è, non è, non è, non è, Vai su l'issing, vai su l'issing. Lissing, lissing, lissing. Arrivo io, arrivo io. Ok, Drek, 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 Drek. Eh, Lucio, Lucio. Gwenn, Gwenn, Gwenn. Forte, forte, forte. No, and no, ma è l'invitore, sì. Sì, sì. Ma forse possiamo andare, forse. Sì, sì, no. Ho la ulti su casa, ici. No, non si sa, va bene. Comunque, non capisco quali sono i punti di vista, buono. Grafai è il bigo, eh? Lissing, lissing, luffo. Ok, lì, finiti, finiti, finiti. Non sono in range di ulti. Alla, via. Non sono in range di ulti. Non sono in range di ulti. Ora sì. Vado da loro, vado da loro. Sultare? Vado da, che sono morti, che sono morti. Hanno trollato. Dai, 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 dai. Sì, li, sì, li, sì, li, sì. Vado da, vado da. È vinta, è vinta. È vinta, è vinta. È infacch'imperdibile. Ma io l'avevo detto alla Champions League. C'è l'ex out. Ragazzi, no. Non trastavo. Ma, attimo, per... Dobbiamo soltanto rimparare come si gioca a questo gioco da 9.23. No, no. Ah, hai vinta, hai vinta la Champions League. C'è l'ex out, c'è l'ex out, c'è l'ex out, c'è l'ex out. Sto a piadere, ragazzi. 5 sono di ulti, 5 sono di ulti, 3, 2. Lissing, 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 lissing. Non capisco in quale mondo G, Norn, Taric, in modo reso funzionale. La mia prima vittoria, cazzo, sì. Allora, in chat chiedono in tanti, quante partite avete giocato? Due, e abbiamo un 50% di Winneray. Quindi è tantissimo, ragazzo. Allora, in questo team manca molto serità, ragazzi. Non mi piace per niente. Qui mi arriva alla Coppa, cazzo. Va bene, chi chiama Paolo? Invadiamo, ragazzi, un'idea incredibile. Io non invaso. Ho un'idea grandiosa. Sai che Wegan è affettato. Pausa. Pausa? Ci può? Possiamo pausare. Ho inviato una richiesta, inviato una richiesta. No, Deido, vai top. Deido, vai top. Eh, let's invade. No, not come me. Let's invade. Wegan è almeno stacco la roba. Ragazzi, stanno invadendo da qualche parte al 1000 per me. Secondo me da qui. C'è puzza di merda. Qualcuno goverasse. Non me la sento. Oh. Guys, ma se facessimo. Se facessimo Wegar mid e Chiana bot contro. No, no, però actually. Vuoi restare Wegar mid? No, ma per cosa voglio dire? Contro Poppy vinci. Contro Poppy vabbè. Oh, è un'auto, io lo tiri. Baffano. Vuoi andarci, è lo stun. Io lo stun, ma non la... Io posso, prendo l'exhaust, prendo l'exhaust per il windinger. Aspettate, aspettate. Sì, ce l'accelo, ce l'accelo, ci sono. Vabbè, continua, 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 è morto. Exhaust, exhaust, exhaust. L'altro, 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 l'altro è stronzo. Ok, va bene così. Ok, perché di questi card va vuoti. Arrivando. Exhaust, exhaust. Exhaust. Ai c'è l'antarno. Allora, i merding non è il flash. Sì, puoi dare varie. Io ti posso mettere anche la ultima. Posso anche flashare per lui. Ma questo che fa? Ah, e non mettere, anzi... Vabbè. Questo gli è messo la depressione Guarda la mia play Ma possiamo devare Vado vado Nord è a Prio, mezzo Non lo vedo più Uccidità Io ho il TP Si è riuscito ad andare via Tipo in 3, 2, 1 Ho la R Ok forse lo uccidei da solo Ho la R Si ma aveva la R, what the fuck Penso che ho appena capito quale era la persona da riportare Aspetta dammi la stack di qua Ah raga ma lì si gankano pure Ma che è questa una certa Ciamo il drago Ma gankano pure Io non ho visto che ma in 3 game Vabbè Arrivo arrivo aspetta sto fissendo Ragazzi che mi è qui il doppelgank O le tale? Da R1 Paolo cosa stai facendo? Mordekaiser mi deve 3 kill Aspetta che mi craft un po' di HP Prendo io il cannone Lo prendo io Ultino 8 Bounce ai McZinger Keep and chase 2 secondi Tira dritto Sto cercando di arrivare top Vieni qua Vabbè c'è anche c'è anche c'è Vabbè c'è anche c'è anche Alla ult Ok dobbiamo incaggiare Basta basta Guarda 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 Oh anche c'è Buona 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 Dani Dani Smaidola uscite sta torretta in merda Andiamo al drago Andiamo al drago Andiamo al drago Oh lo chiudiamo eh Trollato Sto facendo Sono fine sono fine Non sto laggando Ulti lì sì Ulti lì sì Che cosa fare? Drake Io ho manato l'overla R Buono buono Vincete vincete Utenta Nocturl muori Monocturl Andiamo al drago Che cosa faccio? Ti dovrebbe prendere la masca? Ci sono Ci sono Ci sono Tiene Tiene Raresh Ulti l'emr 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 Entra, entra, entra Mi aiuto Posso curare, posso, c'è l'ial, c'è l'ial Ok, feedback Slow, guarda Tariq Ok, ok, ok Non c'è la W Non c'è la W Ossilare appena esci E5 No Raga ma bussiamo fit Posso, posso flasciare, posso flasciare come una scimmia Abbiamo 0 danni Eh, stop Ha una intap Bravo però Perchè stai trollando Eh sì, la prima morte cade giù il mondo Falli via il cazzo Eh beh Ce lo sono appiccina ora No, look Mordecai Mordecai Watch here 人 Re� 5 Mordecai Stron, non conf Teste Stron Certo Doveva giocare Ehm 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 Drago Molte Io ho sceso l'ecente Vi torre Che Si, Drago Nah Dov'è lì, dov'è lì? Guarda qua guarda qua Guarda qua guarda qua Mi caggio un po' Ok, fai uno Io e Orton Io faccio l'international Alla fine hai fatto 20 stacks Ma dove non ti va a girare? Io l'ho tirato dall'inizio Stacks con 0 ma è già la quale più guardabile Ma ne ho 22 Oh, oh Non faccio più kick Basta così Vedi che era il buy giusto Vedi che era il buy giusto Vabbè qual è il premio dei falliti adesso? Così però sono male Senta quello che ti ci Ma è quindi Ho più cini? Eh, è stato divertente ragazzi Team solo peng Dove peng Non ha giocato però Ma mi hanno dato dei reward bruttissimi Non è stato Tenta kill world carnival tivo Nice Quanto c'è il clash Che cosa hai preso Paolo da sta roba? Grazie non mi va di parlare Mi hanno scammato Devevo essere una volta Mi scammano ogni volta Che ci siete contenti? Sopport Wkong lancia le nuove Asciugano look per Wkong E mi ha rubato i soldi E mi ha rubato i soldi E mi ha rubato i soldi Ma questa è una roba da arresto Ma questa è una roba da denuncia E' uno scam E' uno scam bello e buono E' uno scam Proprio clicca qui Clicca qui per fotterti la mamma Si può redimmare? Clicca qui Clicca qui Come si rifunda sta merda? Clicca qui